Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta su Ritmi Batteria. Quest'oggi vi ho preparato un tutorial di una canzone di un grande nostro artista italiano che è Renato Zero. La canzone è Rivoluzione. Devo dire che personalmente Renato Zero è un artista che mi piace veramente tanto. Ho avuto l'occasione per un po' di tempo per fare delle sostituzioni per un tributo a Renato Zero e vi garantisco che mi sono veramente divertito. Iniziamo a vedere nel dettaglio un po' le parti della canzone. Vi ricordo come sempre che qui sotto trovate il link per scaricare gratuitamente lo spartito di batteria e un altro link che vi porterà alla cover suonata, sempre da me, che vi piaccia o no. Vedrete in effetti che mi sono veramente divertito. Come potete vedere dallo spartito abbiamo un'introduzione e le prime 16 misure della strofa senza batteria. Dopodiché entriamo con un tempo dimezzato con i beat principali sul 2 e sul 4. Quindi facciamo attenzione perché è in levare in questo caso. Vediamo nel dettaglio le prime due misure che sono un po' le variazioni principali di queste parti. Brano che è a 132 bpm e io ve lo farò vedere a 90 bpm per agevolarvi un attimo e capire meglio come funziona il tutto. 1, 2, 3, 4 Ok, questo è il tema principale di questa parte di strofa. Nella quarta misura di questa strofa troverete anche una cassa sulle varie del 4. Comunque la base principale è quella che vi ho fatto sentire. Arriviamo alla terza misura della seconda riga, quindi il primo fill prima del primo ritornello. Tutto sviluppato sul charleston e quindi con delle leggere aperture e sull'1 troviamo cassa e crash. Vi solfeggio un attimo la figura che suona il charleston. Mi raccomando, abituatevi anche a voi a cantare le figure ritmiche che trovate e che dovete suonare. Vi aiuterà a visualizzarle meglio, ok? A capirle meglio e portarle poi sul set in maniera più semplice. Allora, la figura è questa. Ta 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 ta. È indicato anche il charleston con il piede, quindi la chiusura del charleston con il piede sul 2 e sul 4. Proprio perché ci sono due aperture, quindi due acciaccature, che rendono il fill un po' più interessante. Andiamola a guardare. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quindi vedete che quelle due aperture rendono la cosa un po' particolare. Poi a velocità piena vedrete un po' la differenza. Mi raccomando, cercate di allenarlo singolarmente, di vederlo singolarmente, poi unitelo alla misura che viene prima e anche quella dopo, per cercare appunto di inserirlo un po' in quello che è il contesto della canzone. Vediamo subito il ritornello. Tutti i ritornelli presenti nella canzone sono praticamente uguali, quindi cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Ogni tanto troveremo qualche colpo di cassa in più magari sulle varie del 3. L'unica cosa che cambia spesso sono i fill ogni quattro misure del ritornello. Ora vi suonerò il ritornello completo con tutte le variazioni. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Prima variazione 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Seconda variazione 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Attenzione, terza variazione 1, 2, 3, 4 Subito dopo l'ultima variazione ritorniamo un attimo a quello che è il tema con cui abbiamo iniziato. L'unica cosa che cambierà in questo tema, chiamiamolo così, sarà che sul 4 anziché suonare il rullante manteremo sempre un colpo di gran cassa. 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 In questo caso vi ho già fatto sentire anche il lancio che poi ci porterà alla strofa. Strofa in cui troviamo rullante sul 2 e sul 4, gran cassa sull'1, sul 3 abbiamo una pausa quindi suoneremo solo il charleston e in più troviamo sulle varie del 4 un altro colpo di cassa. Anche qui vi farò sentire i due colpi che vengono suonati sull'ultima misura della quarta riga. In questo caso sono colpi di rullante e crash che si trovano sulle varie dell'1 e sul 2. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Altro lancio prima della seconda parte di questa strofa lo troviamo sulla prima misura della quinta riga. Sull'1 troviamo una figura di cassa che è ta-ta-ta, sul 2 rullante e crash, sul 3 non troviamo niente se non due ottavi di charleston, sul 4 rullante sul battere e cassa sulle varie. Ve la faccio ascoltare. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, seconda parte della strofa che vede riprendere un attimo il tema della prima parte. Quindi cassa sull'1, rullante sul 2 e sul 4 con alcune variazioni sul 4 dove troveremo una cassa in levare. Finale numero 2 del giro che vede un piccolo lancio. Cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 troviamo un'apertura di charleston, E sul 4 troviamo due ottavi di timpano e rullante. Ve la faccio sentire. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sui due ottavi di rullante e timpano magari cercate di fare un leggero crescendo. Sono due colpi, non è che si possa fare tanto, però diamogli un po' di sostegno in più per arrivare poi alla parte successiva con un po' più di aggressività. Dico aggressività perché io qui gli ho dato un po' di forzatura, insomma, gli ho dato un po' di tiro in più perché è un pre-ritornello che è abbastanza carico. Questa parte semplice semplice, cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Arriviamo alla settima riga e prima di ritornello troviamo due misure molto interessanti. Sulla prima, sull'1 cassa e crash, sul 2 rullante, sulle varie del 2 cassa e crash, sulle varie del 3 tom, sul 4 timpano, sulle varie del 4 cassa e crash. Dopodiché, misura successiva, abbiamo un bel crescendo tutto sul rullante che ci porterà diritti al nostro ritornello. Questo crescendo che partirà in sedicesimi sulle varie del 2. Vi suonerò tutta l'ultima parte della strofa fino ad arrivare a queste due misure. 1, 2, 3, 4 Come vedete, se ci lavorate a una velocità ridotta, potete farlo tranquillamente. Il nostro ritornello, che come vi ho già detto prima, è simile per tutti i ritornelli che troviamo, in questo caso cambia il secondo finale. Secondo finale che vede sull'1 e sul 2 cassa e rullante. Sul 3, un ottavo puntato di gran cassa. Sull'ultimo sedicesimo, primo tom. Sul 4 abbiamo due sedicesimi di rullante e poi il secondo ottavo di timpano. Solfeggiata questa figura, se noi la solfeggiamo questa figura suona così. Ta, 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 ta In questo caso, avendo l'ultimo sedicesimo del 3 sul tom, vi consiglio di partire con la mano sinistra. Quindi, cassa, mano sinistra, mano destra e mano sinistra sul rullante e poi ci spostiamo con la destra sul timpano. Ultima parte del ritornello che si ripete come il primo ritornello. Nella parte successiva a questo ritornello si ritorna ancora al nostro tempo dimezzato, fino ad arrivare ad un lancio che ci porterà al ritornello successivo. Il lancio, come vedete, tutto sul rullante, pausa sull'1, ottavi di rullante sul 2 e sul 3, dopodiché sul 4 troviamo 4 sedicesimi. Vi faccio vedere solo ed esclusivamente questo lancio. 1, 2, 3, 4 Anche qua vi consiglio sempre di fare un leggero crescendo, quindi partite un po' con una dinamica leggera, un po' più bassa, fino ad andare su con un bel po' di cattiveria. Altro ritornello e altre variazioni. In questo caso, primo e secondo finale del ritornello sono molto semplici. Troviamo solo sul primo finale un ottavo di cassa in più sulle varie del 3, prima misura dopo il secondo finale semplice, la misura successiva invece troviamo cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sul 3, sul 4 troviamo primo ottavo sul rullante e poi una terzina sviluppata sul secondo ottavo che vede secondo ton, primo ton, timpano. Che si legherà alla misura successiva che vede cassa sull'1 e sulle varie dell'1, rullante e crash sul 2, levare del 3 con una cassa e sul 4 rullante. Andiamo a capo, primi due ottavi di cassa, dopodiché sul 2, sul 3 e sul 4, rullante e cassa, rullante e cassa, rullante e cassa. Adesso vi farò vedere dal secondo finale fino a questa parte. 3, 4, 1 3, 4, 1 Dopo questa parte si ritorna al nostro tempo di mezzato, di nuovo un lancio prima del nostro ultimo ritornello. Sull'1 troviamo due ottavi di rullante e timpano leggermente in crescendo, sul 2 rullante crash, sul 3 e sul 4 un bel crescendo in sedicesimi di rullante. 1, 2, 3, 4 Ultimo ritornello uguale al primo, quindi anche le due variazioni sul primo e secondo finale sono uguali. Cambia solo sul terzo finale che trova sull'1 due ottavi di cassa, sul 2 rullante e charleston, sul 3 con il primo ottavo di cassa, secondo ottavo di rullante e timpano, e chiude sul 4 con ancora un altro colpo di rullante e timpano. 1, 2, 3, 4 Cambio si torna al tema iniziale, l'unica variazione ce l'abbiamo sulla misura finale. Misura finale che vede primo ottavo dell'1 un flam sul rullante, secondo ottavo primo tom, primo ottavo del 2 sul secondo tom o se volete anche sul timpano, secondo ottavo del 2 che chiude su cassa e crash. 1, 2, 3, 4 Come vedete questa canzone ha diverse parti, tante variazioni. Quello che vi consiglio come sempre, lavorate sulle singole parti, cercate magari di dividere il vostro lavoro, il vostro brano in sezioni, tipo strofa, ritornello, così. Lavorate sulle singole parti e poi cercare di mettere tutto insieme. Lavorate a una velocità ridotta e poi piano piano, quando avete il brano tutto completo, cercate di portarlo fino a velocità originale. Mi raccomando, sui ritornelli utilizziamo un po' anche il charleston aperto proprio per dargli un po' quell'aggressività in più. Abbiate pazienza e cercate di divertirvi. Penso che anche per oggi sia tutto. Se vi è piaciuto il video e se vi piace questo canale, mettete un like e iscrivetevi appunto al canale. Continuate a seguirmi, se avete commenti o richieste di qualche tutorial in particolare, scrivete nei commenti qua sotto e cercherò di fare il possibile per esaudire le vostre richieste. Non mi resta che salutarvi e augurarvi, come sempre, un buon Grun. Alla prossima! Ciao!